La formattazione condizionale permette di definire delle colorazioni specifiche che deve assumere una cella a seconda del fatto che si realizzino o meno determinate condizioni. Per questo esempio andremo a utilizzare una colonna personalizzata già creata. Per inserirla nel nostro tabellone andremo a inserire tramite tasto destro del mouse Colonne, aggiungi colonna personalizzata. Nel nostro caso sceglieremo quella che è Advanced Decline basata sulla distanza dal minimo e dal massimo. Come vedete viene inserita la nostra colonna To Ad e su questa io andrò a creare la mia formattazione condizionale. Per poterlo fare ho come al solito due strade, quindi richiamando col tasto destro del mouse il menu contestuale, scegliendo la voce Formattazione, selezza una formattazione e poi Nuova, oppure dal menu Strumenti richiamo l'editor di configurazione generale, sceglierò Funzioni personalizzate, Formattazione. In questo caso andremo a creare una nuova formattazione condizionale e quindi inserirò Nuovo. Appare quindi la nostra finestra di dialogo, dove andremo a inserire al solito il nome e la descrizione che ci verranno utili quando andremo a richiamare queste formattazioni per distinguere, quindi nomineremo semplicemente Ad e Advanced Decline. Dopodiché andremo a definire le condizioni. Andrò quindi a scegliere la colonna che ho inserito prima nel tabellone, sulla quale verrà basata la nostra formattazione e andrò a indicare che sia uguale a 0. Potrò scegliere di avere il testo in grassetto, magari su sfondo rosso, e con il testo ad esempio in nero. Siccome voglio bagliare anche nel caso in cui la colonna Advanced Decline sia uguale a 1, aggiungerò tramite questo pulsante una nuova possibilità di formattazione, quindi andrò a scegliere sempre la colonna, in questo caso dirò che sia uguale a 1, manterrò il testo in grassetto, metterò magari il testo in verde, e inserirò il testo sempre in nero. Una volta che andrò a cliccare su Conferma, vedrò che la mia colonna si popola con i colori che ho definito, cosa che diventerà molto più evidente andando a ordinare la mia colonna. La colonna creata è sempre in Push e, come abbiamo visto prima, attraverso la configurazione generale avrò sempre la possibilità innanzitutto di ritrovare le formatazioni condizionali che ho inserito, con nome e descrizione, di andare a modificarle, duplicarle oppure rimuoverle. Vi segnalo ancora una funzione, ma prima di procedere chiuderò la finestra di dialogo Configurazione generale per indicarvi che la formatazione condizionale è applicabile anche a tutte le colonne. In questo caso è applicata solo la colonna To Add. Quindi, cliccando sulla colonna di mio interesse, richiamando il menu contestuale, la voce Formatazione, troverò la voce Applica a tutte le colonne. Come vedete, tutto il mio tabellone si va a popolare in base alla formatazione appena decisa. Io lo rimetto in ordine alfabetico. Vado a rimuovere la formatazione condizionale. Posso farlo o dalla singola colonna, attraverso Rimuovi, oppure tramite Rimuovi Tutte, quindi sempre il menu contestuale, Rimuovi Tutte. In questo caso vediamo come il tabellone è stato completamente pulito dalla formatazione utilizzata in precedenza. Un'ultima possibilità per quanto riguarda la formatazione condizionale è quella di non definire una colonna specifica su cui applicare la formatazione stessa. Per farlo, vi mostro un esempio. Io vado innanzitutto a riapplicare la formatazione Advanced Decline alla colonna specifica. Dopodiché, sempre tramite il menu contestuale, vado a effettuare delle modifiche. Non il nome, non la descrizione. Semplicemente, al posto di andare a selezionare una colonna specifica sul quale agire, come nel nostro caso di prima, in cui abbiamo scelto Advanced Decline basato sulla distanza dal minimo e massimo, e cioè la colonna che abbiamo inserito inizialmente in questo tutorial nel tabellone per mostrarvi l'esempio, andrò solo a indicare colonna corrente. In questo caso lo faccio per entrambi i parametri. E andrò a definire che, se è minore o uguale a zero, andrò a impostare lo sfondo rosso, eccetera. Se invece è maggiore o uguale a uno, andrò a applicare, ad esempio, lo sfondo verde e le relative scelte collegate. Dando conferma, noterò come nella colonna tua di non sarà stata effettuata nessuna variazione. Se vado ad esempio a applicarlo anche ad altre colonne, quindi senza la colonna Advanced Decline definita, ma con una colonna generale, metterò ad esempio sulla colonna del minimo, Formattazione, Advanced Decline, vedrò che tutti i valori superiori a uno sono stati colorati in verde. Se la applico su variazione percentuale, probabilmente avrò un'indicazione ancora migliore per quanto riguarda il nostro esempio. Infatti vedrò come i valori tra zero e uno, cioè non compresi all'interno di nessuna nostra scelta, sono rimasti invariati. I valori inferiori a zero sono diventati rossi e in grassetto. I valori superiori a uno sono diventati verdi, sempre in grassetto. I valori inferiori a zero sono diventati rossi e in grassetto.